Come fa Roma? Ok, Zala! Più forte! Ancora! Lo show del tour estivo sarà uno show leggermente diverso rispetto a quello nei palazzetti di questa primavera. Ho scelto, proprio per differenziare un pochettino rispetto al tour nei palazzetti, di dividere la scaletta tra metà band e metà DJ set. Quindi ci sarà Drillionaire che sarà sempre presente con me sul palco. Puoi la voce Roma! Come fa? Come fa? No, no, e mi chiedo da un pa-pa-pa S'hai bevuto troppo contro tu tu È uno show fatto di tanti momenti, chi mi conosce sa che io sono uno a cui piace spaziare, no? Quindi ci sarà il momento un attimino più cacciara, piuttosto che magari c'è il momento un attimino più intimo, pezzo piano e voce, potrà capitare che suono il piano io. Insomma, secondo me è una roba da non perdere. Quanti hanno voglia di piangere un po' stasera a Roma? Facciamo un po' di luce e poi partiamo? Fuori i telefoni, raga, fuori, 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 fuori. Sono ancora qui Roma! In questa stupida street Sparami senza rumore Fingi sia un errore Dopo scappa via Sirio ha certificato settimo disco di platino in un tempo record perché a quanto pare sono quello che ci ha messo di meno. Grazie di cuore a tutti e a chiunque mi abbia dedicato tanto così del suo tempo. Grazie a chi me ne ha dedicato di più. Grazie a tutti quanti, raga. Come fa Roma? Aiutami a sparire come Mi sento un nodo alla gola Nel buio balli da sola Spazzami via come Scenere Come? Come? Grazie Roma! Un ultimo casino! Uno, due, tre! Uno, due, tre!